Buonasera, vediamo le previsioni del tempo di domani. Al mattino sereno su Alpi e Triveneto, poche nuvole in Valpadana, nuvoloso o molto nuvoloso al sud e sulle isole, qualche pioggia su Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, un po' di freddo al nord, probabile assenza di nebbie. Al pomeriggio sereno su gran parte del nord, nubi al centro-sud, qualche pioggia su Puglia, Lucania, Calabria, Lazio e isole maggiori, ventoso sui mari del centro-nord per venti di Bore e di Grecale, temperature minime notturne in calo di 3-4 gradi al nord, dati servizio metanautica e lavorazione grafica Epson. Quella volta che le mani hanno imparato a parlare, quella volta che gli occhi si sono riempiti di sorrisi, quella volta che abbiamo sentito un profumo sconosciuto. A tutti voi, oggi Findus dedica un'altra prima volta insieme. Nasce Dezzamore. Nasce un modo di mangiare semplice e sorprendente, come il minestrone saporito, profumato al basilico. Dezzamore Findus. Da oggi, ditelo così. Non lo so. 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 Non so niente. Ogni volta che non sai una cosa, sai che c'è da sapere. Sapere.it Averna. Il gusto pieno della vita. Ci vediamo fra una settimana. Ah, e mi sposerai, vero? Ford Focus. La mia scelta. La nuova gamma Focus vi aspetta anche sabato 17 e domenica 18 in tutti gli showroom Ford. Kamanataka si è massassa o chiuscia. Che ha detto? Ma non sento. Non farmi shh. Benvenuti! Con Broadband Box mio zio non è più lo stesso. E con le immagini fluide della webcam è anche più bello. Lando, il prossimo sei tu. La tempesta non si placava, ma dovevo rischiare. E trovare i ragazzi con il camion dei rifornimenti. Avevano bisogno di quel pezzo di ricambio a tutti i costi. Sembrava impossibile, ma ce l'ho fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. La nuova Opel Agila è un'auto piccola, con un grande bagagliaio. Basta abbassare i sedili posteriori. Opel Agila, prima. Poi. Da oggi all'ire 16 milioni 600 mila con l'imperdibile offerta Ecotime. Valle d'Aosta. Le vacanze più belle passano di qua. Klein Kappo. L'uischi che fa storia da più di 300 anni. Vi abbiamo abituati ad alti standard di design. Vi abbiamo abituati a consumare meno. Vi abbiamo abituati a pensare al futuro. Vi abbiamo abituati a sentirvi sicuri su ogni strada. Ma ogni tanto una sorpresa non basta. Finanziamenti in 48 mesi a tasso zero. Prima rata 28 febbraio. Con WIND ti conviene rispondere. Perché la tua prepagata si ricarica ogni telefonata che ricevi sul cellulare. Da qualsiasi telefono arrivi. E scopri subito quanto hai guadagnato. WIND, ti conviene rispondere. Non bevevo Jägermeister perché... Perché no? Jägermeister, perché no? No! Non si tocca! Venite a toccare la nuova collezione Citroën Xara Picasso. Nuovo look, più spazio e tecnologia, climatizzatore. Quattro airbag ABS a partire da 29 milioni e 900 mila. E a novembre Citroën ti fa un'offerta irripetibile. La Station Wagon al prezzo della berlina. Ad esempio, Xara Station Wagon 2000 HD. A 28 milioni e 700 mila. I concessionari ti aspettano anche sabato 17 e domenica 18. I wrote I love you on the beach. I wrote I love you in my heart. And when I need you I sing a song. Every time I feel alone. I am so happy you are here. My heart is longing to be near you. Italia 1. Le devo comunicare una broken arrow. Il nome in codice per la perdita di un'arma nucleare. Non sappiamo che fine abbiano fatto le testate. È pericoloso. Sei mitico! La bomba sono io! Spietato, ora è anche invincibile. E se non ci danno i soldi, ci sarà quiete assoluta in tutto il sud-ovest per circa 10.000 anni. John Travolta, Christian Slater, in un film di John Woo. Nome in codice broken arrow. Venerdì alle 21 su Italia 1.